La Commissione Bilancio di Montecitorio ha approvato all'unanimità un emendamento al decreto PNRR, a prima firma del Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia Simone Baldelli, che destina i 35 milioni di euro risparmiati quest'anno dalla Camera dei Deputati alle popolazioni colpite dai terremoti. L'emendamento fa seguito ad un ordine del giorno approvato dall'Assemblea di Montecitorio nel giugno scorso e tra l'altro velocizza le procedure per l'utilizzo di questi fondi da parte del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Il testo dell'emendamento è stato presentato con le firme dei questori della Camera, Gregorio Fontana di Forza Italia, Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia e Francesco Duva del Movimento 5 Stelle, ma anche degli esponenti di tutti i gruppi parlamentari. Dal 2016 ad oggi, ogni anno, su proposta di Baldelli e con la sottoscrizione e il sostegno di tutte le forze politiche, sono stati destinati al terremoto del centro Italia i risparmi realizzati dalla Camera dei Deputati per un ammontare complessivo di 387 milioni di euro. Il commissario Legnini, attraverso una nota, ha espresso la propria gratitudine nei confronti della Camera dei Deputati, sottolineando come questi ulteriori 35 milioni potranno essere finalizzati ad interventi specifici per accelerare la ripartenza economica dei territori colpiti prima dal sisma e poi, ancora più gravemente, dalla pandemia.